La miseria uccide più del virus. Lo striscione ha sventolato su uno dei balconi del palazzo di Via Verdi. I disoccupati di Scampia hanno infatti occupato in mattinata il Consiglio Comunale della città. Si sono riuniti nella sala Giorgio Nunes e hanno chiesto di parlare con il sindaco di Napoli. E si confronteranno lunedì Luigi De Magistris, l'assessore Buonanno e una delegazione dei disoccupati di Scampia. Sul tavolo una questione annosa e difficile, come spiega Omero del Comitato Vede di Scampia. Con il Covid e la fine per molti del reddito di cittadinanza, la situazione è diventata esplosiva. Le persone sono in ginocchio al di sotto della soia di povertà. Ora vogliamo risposte e azioni concrete. Vogliamo il lavoro è stato invece il grido di protesta dei disoccupati che si sono riuniti contemporaneamente davanti la sede della città metropolitana. Con petardi, striscione e fumogeni, i disoccupati del Movimento 7 Novembre hanno manifestato per chiedere certezze per chi non ha un lavoro e non ha neanche più il reddito di cittadinanza. Questa pandemia e questa crisi non ha fatto altro che aggravare una situazione già surreale delle condizioni di vita e di lavoro della nostra città. Stiamo qui per pubblicizzare anche la mobilitazione nazionale che ci sarà il 24 in tutte le città fuori le sedi di Confindustria, perché crediamo che le politiche del governo sono legate ai diktat di Confindustria, perché hanno iniziato a mettere i profitti davanti alla nostra salute e alle nostre vite. Come disoccupati chiediamo rispetto, dignità, lavoro e salario garantito. Grazie. Grazie.